è un po un mix di sensazioni quello che ci ha lasciato ieri sera napoli barcellona ne ho parlato anche questa mattina sulla mia rubrica pensare con i piedi il mio appuntamento settimanale sul sito star casino punto sport vi invito ad andare a leggerla vi lascio il link in descrizione per poter trovare direttamente l'articolo perché ho scritto questo pezzo appena dopo la fine di napoli barca e mi sono reso conto di continuare a ragionare su due piani differenti ovvero quello della razionalizzazione del fatto che il napoli ha comunque ottenuto un risultato prestigioso un risultato che in qualche modo certifica la crescita avvenuta sotto gattuso negli ultimi tempi e negli ultimi mesi dall'altra addirittura si ritrova con dei rimpianti perché la partita di ieri sera il napoli poteva vincerla poteva pensare di costruirsi un minimo di cuscinetto per andare al camp nou invece questo uno a uno in vista del ritorno non dà garanzie anche se allo stesso tempo permette di ripartire in pressoché totale equilibrio e questo è un dato di fatto è il dato di fatto della serie di champions però il fatto di invece non essere riuscito a battere questo barcellona parso enormemente umano al cospetto del napoli in qualche modo fa capire che le buone indicazioni che ha tratto la squadra di gattuso anche da questo confronto con una big contro una squadra più forte devono essere tradotte in quelli che possono essere obiettivi veri di questo finale di stagione ovvero le faccende domestiche i massimi sistemi diciamo così sono ancora un po' troppo alti per una squadra che inevitabilmente ha avuto la sua stagione segnata da quanto successo ormai qualche mese fa che partita è stata al san paolo piuttosto diversa da quella che ci immaginavamo da quella che sognavamo perché la notte napoletana aveva veramente i crismi per poter essere una notte storica la prima di leo messi nel tempio di diego tra l'altro molto bello trovato obiettivamente molto bello tutto quello che c'è stato attorno a questo debutto di leo messi a napoli il modo in cui lo stesso barcellona si è avvicinato tributando grande rispetto e ammirazione a una città che è unica al mondo e anche il comportamento del popolo di napoli che in qualche modo ha abbracciato leo gli ha riconosciuto la grandezza ha riscontrato l'eccezionalità della persona che per la prima volta si presentava nella loro città però allo stesso tempo ha messo le cose in chiaro che c'è un solo padrone a napoli c'è un solo dios sotto al vesuvio e leo messi al massimo poteva essere un ospite estremamente gradito ma mai un dio un semidio che arriva a calcare il prato che fu di diego armando maradona mi è piaciuto veramente tutto quello che c'è stato attorno mi è piaciuto un po meno la partita nel senso che il napoli ha fatto la partita che doveva fare e che poteva fare in queste condizioni perché come vi ho detto più volte genaro gattuso secondo me è stato estremamente bravo estremamente lucido ed estremamente intelligente nel capire che c'era una sola chiave per poter far ripartire il napoli per rialzarlo bisognava abbassarlo bisognava fargli un bel bagno d'umiltà bisognava mettere i giocatori di fronte alla situazione in cui loro si erano messi con qualche bizza con qualche riflesso isterico di una grandeur ormai decaduta e li ha costretti a mettersi guanti cappello tuta da lavoro perché l'unico modo per far ripartire il napoli era quello appunto di ammantarlo di umiltà di operosità ed è una cosa che napoli si è messo a fare grazie al mercato di gennaio che ha portato elementi funzionali a questo tipo di atteggiamento e di impostazione anche tattica gattuso ha evidentemente abbassato il baricentro dato delle direttive affinché il napoli sia una squadra che aspetta e che non va ad aggredire e i risultati non è un caso sono arrivati soprattutto contro le squadre forti perché napoli ha battuto l'inter ha battuto la juventus ha battuto la lazio ha pareggiato contro il barcellona in queste partite questo nuovo napoli riesce a fare il risultato riesce a portare a casa la pelle è però allo stesso tempo quasi normale che arrivi qualche rimpianto perché se fai una partita del genere poi devi andare a cercare di prendere il risultato pieno quantomeno devi capitalizzare al massimo le occasioni che ti capitano e il napoli non l'ho fatto ha segnato un gol bellissimo mertens un gol tra l'altro da record perché aggan chamsic in vetta alla classifica dei massimi realizzatori nella storia del club al prossimo sarà da solo ed è un'ulteriore in coronazione per un fantastico giocatore un giocatore che anche il senso delle grandi occasioni delle grandi giocate uno che rimarrà eternamente scolpito nella storia del napoli e penso possa anche ambire a farne ancora a scriverne ancora delle pagine però vedremo cosa si risolverà per questa faccenda del suo contratto poi soprattutto il napoli ha avuto due ottime occasioni dopo aver incassato l'uno a uno che è stato l'ennesimo errore di sincronismo della difesa in questa stagione però dare delle colpe mi sembra un filo eccessivo per per la prestazione globale che ha fatto il napoli ieri sera però rivedete il gol e ancora una volta la difesa sbaglia i movimenti di reparto c'è un errore individuale e nessuno che riesce a sopperire a questa mancanza il barcellona non perdona in questa situazione anche in una serata di presenza discreta di messi c'è sempre il semedo di turno che si inserisce il grisman di turno che non sbaglia occasioni del genere in una competizione dove i dettagli fanno la differenza dicevo il napoli ha avuto due occasioni grosse per per poter vincere la partita per poter dare un altro colpo caglie con ha sbagliato tu per tu con terstegen anche in questo caso colpa sì per caglie con nel senso che un'occasione del genere bisogna trasformarla però guardate come esce terstegen ve lo dicevo ieri è un portiere che in queste situazioni è veramente il peggio che ti possa capitare davanti se tu sei l'attaccante e hai il pallone fra i piedi nell'altra situazione insegna doveva servire milic però si può anche in qualche modo comprendere come il capitano il figlio di napoli il giocatore probabilmente più animato anche dalla prospettiva di ritrovarsi per la prima volta faccia faccia commessi in una situazione del genere dopo una bella partenza come quella che aveva fatto si sia sentito attirare un po troppo dalla prospettiva del tiro quindi di colpe poche di rimpianto qualcuno e soprattutto la prospettiva di un napoli che giocando così si è rimesso in bolla deve avere di fronte a sé una strada fatta di continui miglioramenti di continui progressi perché poi una squadra che può giocare molto meglio che può pensare di essere più protagonista all'interno delle partite anche contro avversari del genere semplicemente non può pensare di esserlo oggi deve lavorare io direi assolutamente con gattuso come timoniere assolutamente valido deve lavorare deve navigare per riuscire a ritornare ad essere anche una squadra bella anche una squadra forte mentre dall'altra parte il barcellona sta lavorando per farlo anche il barcellona ha cambiato molto pelle il cambio da valverde a kick stn è un cambio profondo un cambio totale è un cambio che deve essere ancora un pochino digerito anche se si vedono delle cose oltre al possesso palla anche il modo in cui il barcellona va a pressare va a cercare di riprendere il pallone più in alto non è ancora un sistema perfettamente instaurato perfettamente sincronizzato e anche questo ci può stare perché comunque si lavora da poco tempo il barcellona se ne torna a casa con un risultato che può andare bene perché al campionato la partita sarà completamente diversa se ne torna a casa con qualche problemino l'espulsione molto sciocca di vidal e l'ammunizione a busquets che primano il barcia di due elementi importantissimi del centrocampo nella partita di ritorno anche se la soddisfazione finisce qui in ottica napoli perché poi pensi che ci sono de jong arthur e rachitice allora dici non è che abbiano proprio la coperta corta il problema un po più grande per il barça potrebbe essere la condizione di piqué che è uscito claudicante è uscito con dei problemi domenica c'è il classico vedremo quel che diranno dalla spagna in questi giorni è un barça sicuramente un po più umano un po meno terrorizzante però è un barça che anche in una serata complicata in una serata sostanzialmente storta in una serata anche con qualche energia gestita perché soprattutto nel secondo tempo si è visto come il barcellona non premesse sull'acceleratore il classico di domenica è veramente molto importante ci sta che il barça non sia andato a napoli per vincere a tutti i costi però è sembrato un po meno appunto terrorizzante vedremo quel che succederà al ritorno credo che al camp no ripeto sarà una partita molto diversa e sarà una serata un po più difficile obiettivamente per il napoli nel frattempo abbiamo visto come in champions pare non esserci assolutamente niente di difficile per il buyer monaco che le ha vinte tutte e che è andato a sconquassare anche il chelsea a stanford bridge di fatto mettendosi già in tasca il pass per i quarti di finale perché è vero che in champions non bisogna mai dare nulla per scontato può sempre succedere di tutto 90 minuti sono sempre un mondo a sé però chelsea bayern monaco 0 a 3 direi che le chance di passaggio di turno per i blues sono molto 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 ridotte anche perché si è vista una differenza netta fra una squadra come quella di lampard che secondo me quest'anno è andata anche al di là in certi punti della stagione del proprio potenziale e dei risultati che poteva ottenere rimane buono il cammino in premier league rimane molto buono il fatto di aver passato un girone complicato in champions perché gli avversari si chiamavano valencia e ajax e il fatto che sia rimasto fuori l'ajax comunque da dei meriti ai baby blues di lampard però in questo momento si è vista tanta differenza tanta differenza nei confronti di un bayern che invece io continuo a ripetervelo già dall'inizio della stagione per me rimane una squadra assolutamente attrezzata per arrivare fino in fondo perché ha un centravanti senza uguali al mondo Robert Lewandowski è il numero uno dei numeri nove e su questo direi che possiamo essere tutti d'accordo è veramente il centravanti perfetto per questo calcio e anche per quelle che sono le sue caratteristiche e il suo punto di maturazione è un killer è capo cannoniere di qualsiasi cosa giochi ha capacità di lavorare con e per la squadra è associativo e tecnico insomma è veramente il prototipo del numero nove perfetto e infatti Lewandowski segna ma fa anche segnare e attorno a una batteria di giocatori che possono mettersi perfettamente a sistema con lui l'esplosione di Gnabry l'aspettavo da un pochino un ragazzo che mi ha sempre dato sensazioni molto interessanti per la velocità e la voracità del suo uno contro uno voglio farvi un discorso abbastanza breve ma molto profondo sul concetto di esterno d'attacco nel calcio di oggi guardate le squadre che giocano con il tridente hanno sì un centravanti magari come Lewandowski magari come Suarez magari come Benzema un centravanti di riferimento che deve portare grosse cifre realizzative però se giochi con tre attaccanti è fondamentale se vuoi essere un top club e io direi che l'esempio di tridente nel calcio di oggi rimane sempre l'esempio del tridente del Liverpool di Klopp se sei un top club che vuole vincere tutto e che vuole vincere i trofei più importanti gli esterni d'attacco devono essere giocatori e che riescano a fondere sia le caratteristiche classiche dell'ala ovvero cambio di passo uno contro uno dribbling per saltare l'uomo per scombinare le linee visto che nella maggior parte dei casi ti ritrovi ad affrontare squadre molto compattate all'indietro però devono essere anche giocatori di alto fatturato in termini di gol e in termini di assist un esterno titolare da tridente di un top club deve essere un giocatore non vi dico da doppia doppia ma da doppia cifra sicuramente in termini realizzativi e da una cospicua cifra di assist bene Gnabry ha assolutamente le caratteristiche di cui vi sto parlando è un esterno da tridente da doppia doppia perché è uno che segna è uno che fa segnare è uno che all'interno della partita quando riceve il pallone diventa costantemente pericoloso e non è l'unico giocatore del Bayern ad avere questo tipo di caratteristiche però nell'otto delle mezze punte mettiamola così dei cavalieri di Sir Robert Lewandowski lui è quello che secondo me ha i valori e le prospettive più alte per cui Bayern Monaco che avrà un ritorno assolutamente agevole però io vado al di là di questo ottavo di finale sono proprio curioso di valutare il cammino del Bayern perché confermo quello che vi ho detto in inizio stagione ma andate a cercare il video se non mi credete il Bayern ha la squadra per poter essere una delle candidate ad arrivare fino in fondo in questa Champions League vediamo anche cosa succede stasera c'è la Juventus che gioca a Lione ed è una partita particolare perché il Lione ve l'avevo detto in inizio stagione è una squadra che secondo me ha dei valori non li ha espressi sempre in questa stagione anche delle assenze abbastanza pesanti però ha dei giocatori di qualità c'è differenza fra Lione e la Juventus ma non è una partita scontata soprattutto questa andata in terra francese in particolare stasera si gioca una partita che mi interessa molto Real Madrid Manchester City al Bernabeu l'osserverò con attenzione domani ne parleremo approfonditamente e poi ci avvieremo verso un grande weekend un weekend che per il calcio italiano sarà ancora una volta assegnato dalla situazione attuale è il weekend del classico si gioca in Sud America si gioca in Europa tante cose di cui parlare ci rivediamo sempre ci rivediamo spesso ci rivediamo presto qua sul nostro canale